Dal 16 aprile su RaiPlay e RaiPlay Sound Beatrice Venezzi sarà protagonista di Voci fuori dal coro, un programma che racconterà otto compositrici che hanno fatto la storia della musica e hanno Dal 16 aprile in vista del debutto la direttrice d'orchestra ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha anche risposto alle critiche ricevute nei mesi scorsi Se è più imperdonabile essere donna o di in vista del debutto, ma credo che sia più imperdonabile essere conservatori, o di destra, come dice lei, ha risposto a Renato Franco nel corso di un dialogo che ha affrontato il suo modo di reagire alle contestat, ma penso che se c'è questo accanimento Nei miei confronti in definitiva mi temono Ma penso che se c'è questo accanimento nei miei confronti in definitiva mi temono Tempo fa fece discutere la sua autodefinizione di direttore d'orchestra, episodio su cui pure è tornata oggi, mi accusano di non essere sufficientemente femminista perché voglio fa Tempo fa fece discutere la sua autodefinizione Laura Boldrini disse che avevo un problema serio che dimostra poca autostima Laura Boldrini disse che avevo un problema serio che di Il femminismo dovrebbe essere una questione concreta, non ideologica, a sostegno dell'Eista Invece è banalmente legato alle dispute lessicali Invece è banalmente legato alle dispute lessicali Anche l'imitazione che di lei ha fatto Virginia Raffale nel programma Colpo di Luna ha generato qualche polemica, smorzato dalla stessa Venezia che ha ribadito di non esserne stata per nulla infastanza Anzi, quest'anno mi sono presa due grandi soddisfazioni, l'imitazione di Virginia Raffale e un carro dedicato a me al Carnevale di Fano, ma ripeto, non abbiamo mai avuto un rapporto politico Attualmente Beatrice Venezia è consulente del ministro San Giuliano, ma la precisazione è che il suo ruolo sia estraneo alla politica Io non faccio politica, non ho una tessera di partiti Attualmente Beatrice Venezia è consulente del ministro San Giuliano, ma la precisazione è che il suo ruolo sia estraneo alla politica Io non faccio politica, non ho una tessera di partiti